Il garante dei detenuti della Toscana pronto allo sciopero della fame nelle carceri troppe situazioni non risolte. Via libera al programma delle attività per il 2020 del Corecom. La risoluzione è stata approvata a maggioranza dalla Commissione Affari Istituzionali. A Marina di Massa il 25 e 26 ottobre un convegno su qualità e umanizzazione nelle cure sanitarie. Dal 20 al 24 ottobre a Montecatini l'International Short Film Festival, 76 cortometraggi nella selezione ufficiale, 20 paesi coinvolti. Sciopero della fame per la situazione delle carceri. Uno sciopero della fame per accendere i riflettori sulle criticità delle carceri toscane. È l'iniziativa con cui il garante dei diritti dei detenuti della Toscana, Franco Corleone, intende richiamare l'attenzione di tutte le istituzioni coinvolte sulla difficile situazione in cui versano le strutture carcerarie e sollecitare la soluzione di annosi problemi. Sono così stufo di ripetere le stesse cose perché le abbiamo scritte in saggi teorici, le abbiamo scritte e denunciate in polemiche politiche, abbiamo fatto convegni. A ripetere le stesse cose mi viene il vomito e quindi ho pensato una ragione di più per iniziare domani un nuovo digiuno è anche questa, ad evitare di avere questa reazione di insofferenza. Per avere risposte in modo da presentare il mio bilancio con una serie di punti fermi e anche consegnare al nuovo garante un quadro possibile di attività. Le questioni risolte cui fa riferimento Corleone, il cui mandato scadrà il 26 ottobre prossimo, sono riassunte nella lettera inviata al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Antonio Fullone. Tanti temi aperti tra cui lavori non ancora conclusi per la sezione femminile di Pisa e quelli propedeutici per il teatro del carcere di Volterra, le infiltrazioni di acqua nel carcere di Massa, la chiusura ancora da definire nel carcere di Grosseto, l'apertura della sede per la semilibertà a Pistoia e il progetto ICAM per le detenute con figli. Ci sono moltissime cose da fare, da Grosseto a Massa a Livorno a Sollicciano e poi tutte le altre cose che ho detto. Le carceri migliorano nella vita quotidiana se si afferma la cultura dei diritti e l'affermazione della dignità. Se si pensa che le carceri si possano governare tenendo chiuse le celle, usando metodi vecchi e antiquati non si raccoglierà tempesta e questo potrebbe essere veramente pericoloso. Un punto ancora più approfondito sulla situazione carceraria sarà fatto il prossimo 22 ottobre con il bilancio pubblico del mandato che Corleone ha ricoperto per sei anni. Intanto in questi ultimi due anni il sovraffollamento è tornato a mordere, in Toscana al 30 settembre nei 16 istituti di pena erano presenti 3.658 detenuti a fronte di una capienza totale di 3.200 unità. Corecom, via libera al programma delle attività nel 2020. Via libera al programma delle attività per il 2020 del Comitato regionale delle comunicazioni. La relativa risoluzione è stata approvata a maggioranza dalla Commissione Affari Istituzionali. È stato il presidente del Corecom, Enzo Brogi, a illustrare sinteticamente il programma alla Commissione, soffermandosi sulle attività da svolgere nelle scuole e non solo per la formazione degli insegnanti e degli studenti sulle insidie e sulle opportunità di social, smartphone e tablet. Brogi ha poi ricordato il lavoro avviato con l'Istituto regionale per la programmazione economica per monitorare l'uso sempre più intenso di televisioni e radio rispetto alla carta stampata. Sul versante dei premi e dei riconoscimenti pubblici, il 2020 vedrà inoltre nuovi bandi di concorso per i videomaker, per la migliore tesi di laurea in comunicazione. Per la migliore trasmissione televisiva locale sarà individuato il quarto comunicatore toscano dell'anno, una personalità della nostra regione che si sia distinta per le capacità di comunicare all'esterno un tema, un eccellenza, una buona pratica. Il corecom è stato istituito quando ancora l'attività di comunicazione era legata alla televisione, alla radio, ai giornali. Oggi sono passati 20 anni da quando è nato e l'informazione prevalentemente legata alla questione della rete e quindi anche su questo dobbiamo attivare una rivisitazione delle nostre leggi. Mi piace ricordare l'intensa attività che sta facendo il corecom sul tema della tutela dei minori, ma non soltanto dei minori rispetto ai danni che possono ricavarsi da un utilizzo improprio della rete internet. Il vademecum che è stato diffuso negli anni da parte del corecom in molte scuole della Toscana continuerà ad essere diffuso e continueranno ad essere promosse una serie di azioni interessanti di sensibilizzazione sotto questo profilo. C'è poi un'iniziativa significativa che caratterizza l'anno 2019 e che caratterizzerà ancora più l'anno 2020, che è quella collegata al Tribunale dei minori di Firenze. Con l'ausilio del corecom il Tribunale per i minori ha dato vita ad un progetto finalizzato a sensibilizzare i giovani alle conseguenze che derivano dalla commissione di alcune tipologie di reato, tra cui quelle collegate al cyberbullismo e per questo verranno inscenati veri e propri processi presso le aule del Tribunale di Firenze. Nel 2019 sono stati oltre 9.000 cittadini toscani che si sono rivolti al corecom per le loro controversie con i gestori della telefonia, con oltre l'85% di risultati positivi in circa un mese, un mese e mezzo e oltre 3 milioni di euro ottenuti dal riconoscimento dei loro diritti. Qualità e umanizzazione, un convegno per migliorare l'offerta di cura. Qualità e umanizzazione, aver cura delle professioni di cura. È il titolo del convegno che si terrà a Marina di Massa il 25 e 26 ottobre prossimi, un momento di incontro e di confronto per riflettere su come migliorare l'offerta sanitaria senza tralasciare il profilo della umanizzazione delle cure. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Pegaso alla presenza del consigliere regionale Giacomo Bugliani. Oltre l'80% del bilancio regionale viene investito nel settore della sanità. La sanità toscana è un'ottima sanità che garantisce prestazioni eccellenti in strutture altrettanto eccellenti e che può avvalersi di un personale medico altamente qualificato. Tuttavia molto spesso manca una corretta percezione da parte del territorio dei buoni risultati che raggiunge la sanità. E molto spesso quello che si dimentica è proprio il profilo della umanizzazione delle cure. Proprio per questa ragione io credo che avviare questo convegno, promuovere questo convegno da parte della regione toscana sia un gesto estremamente importante perché denota come una regione che tanto fa e che tanto investe sulla sanità abbia ben presente che la sanità è anche altro rispetto a quello che usualmente si considera rilevante ai fini sanitari. E io credo che i risultati di questo convegno saranno in grado di offrire strumenti utili di riflessione anche per le istituzioni politiche e anche per la regione toscana. Obiettivo del convegno trattare il tema delle cure per mezzo di progetti, idee, approfondimenti, esperienze concrete, ricerche e apporti scientifici. E' forse una delle prime volte in cui si ragiona proprio sulle sinergie, quindi queste multiprofessionalità derivano da un lavoro sperimentale che c'è stato prima, che ha coinvolto questi professionisti in un round di questionari e da questi questionari sono emersi dei dati importanti. Abbiamo deciso di riunire in questa sorta di tavola rotonda queste multiprofessionalità che vanno dall'architetto, al teologo, al sociologo, al psicoterapeuta, al medico, all'infermiere proprio per ragionare in maniera comune e sinergica sulle cure e sulla loro migliorabilità. Si spende sempre più denaro in sanità e i pazienti sono sempre meno soddisfatti e i curanti si sentono sempre meno gratificati. Questo deve avere una sua spiegazione. Questa spiegazione in qualche modo può diventare una scienza. Questo convegno per la prima volta riunisce in un solo tavolo tutti quelli che in Italia si stanno domandando come migliorare a parità di investimento l'offerta di cure. E da che parte può passare questo? International Short Film Festival. Ecco l'edizione 2019. E' il più antico festival italiano di cortometraggio. Stiamo parlando del Montecatini International Short Film Festival che taglia l'importante traguardo delle 70 edizioni. L'appuntamento è dal 20 al 24 ottobre al Salone Storico Terme Celsior per una edizione incentrata soprattutto sui giovani. I ragazzi giovani che vengono al festival dimostrano che un festival di cortometraggi soprattutto è un festival che deve incontrare soprattutto le aspettative dei giovani. Quindi durante il festival noi facciamo fotografie, facciamo film piccoli per i vari social e anche cortometraggi con attrici famose che vogliano continuare a dare la continuità a una città straordinaria che vive ancora dei fasti del Liberty. Una delle novità più importanti è proprio questa registration heritage, cioè la capacità di raccontare la città attraverso gli occhi dei giovani. Poi noi vogliamo che questa attività sia anche un'attività diciamo fortemente educativa e quindi i ragazzi di tutte le scuole di Montecatini e di altre accademie vengano a Montecatini a fare questa attività di ripresa. Il festival è stato presentato a Palazzo Pegaso alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni. Montecatini è città importante della Toscana perché ne costituisce diciamo così un'amplificazione nella proiezione esterna che ha richiamato turismo, che ha richiamato qualità nell'ospitalità attraverso le sue terme e Montecatini nelle varie iniziative di questo profilo internazionale di città della Toscana conosciuta nel mondo ormai da 70 anni vive questa manifestazione che si caratterizza perché i film poi in realtà, gli short film, vengono fatti a Montecatini. Sono 76 le proiezioni in concorso nella selezione ufficiale provenienti da ben 20 paesi di tutto il mondo. L'Italia è protagonista con 18 titoli di giovani emergenti. Spazio anche al sociale con la serata di inaugurazione del festival che sarà dedicata al tema dell'Alzheimer e della demenza senile con la partecipazione del regista Domenico Costanzo, autore del film Ho sposato mia madre. Il film Ho sposato mia madre l'ho realizzato l'anno scorso, è già stato un dei diversi festival, l'hanno selezionato in diversi festival importanti nel mondo, sono molto contento di questo. Il film è un film importante perché tratta anche in chiave di commedia perché non è solamente un film triste, tratta il tema della malattia dall'Alzheimer ma soprattutto è anche un film sull'importanza dell'amore, sull'importanza di donare emozioni alle persone che soffrono di demenza senile e anche generalmente a tutte le persone a bisogno d'amore e di emozioni Grazie a tutti.